eccoci qui a via don bosco 10 maggio vediamo chi è che investe per frascati spalletta 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 c'è sempre matteo renzi matteo renzi e frascati pd pd quest'anno io però non so chi votare all'europeo vediamo un po allora elezione del parlamento europeo al parlamento europeo la sinistra vota spalletta al parlamento europeo votate fate votare spalletta c'è anche frascati a sinistra al parlamento europeo c'è sempre questo che vuole cambiare frascati però se candidata alle europee ma alessandro adotti sono tutti qua i partiti eh i partiti che investono per l'europa e per frascati eccoli qui certo che io rimango sempre sconcertato tutta questa profusione di risorse ma mi lascia veramente sconcertato che poi da quello che si sente ci sono scene in quel di vermicino mi si dice ma boh sarà vero duecento persone duecento persone a cena adesso ditemi che ognuno pagava 10 euro eh che c'è credo subito che c'è credo subito